Mi chiamo Ayman Napoli, ho 28 anni e sono felicissimo di essere qui a Reggio, di avere questa occasione importantissima per me, in una società così importante, in una piazza così importante, con dei tifosi che subito mi hanno dimostrato grosso calore, sia tramite i social che di persona e io sono molto contento e orgoglioso di questa situazione qui e spero di ricambiare al massimo questa fiducia, questo affetto che ho nei miei confronti, posso solo promettere di mettere tutto me stesso, tutto il mio sacrificio e se serve anche il sangue e tutto quanto perché l'obiettivo importante è dare tutto la domenica, ogni domenica per noi il nostro obiettivo è dare tutto quanto. È un po' solo ignorante, comunque a prescindere a questo no, corro tanto, mi piace puntare l'uomo e soprattutto mi piace far fare gol ai miei compagni, che per me è una soddisfazione molto grande, a volte più grande di fare gol io stesso, quindi spero di riuscire a fare molti assist anche quest'anno.